Parliamo un po' di quello che John ha menzionato nella sua preghiera ad inizio, riguardo alle nostre abitudini, attenzione ai nostri pensieri, alle nostre parole, alle nostre azioni che poi diventano il nostro carattere e sono abitudini che non possiamo poi cambiare perché diventano parte di noi. Lo so che tanti fratelli scrivono che non riescono a superare certi, a vincere certi demoni nelle loro vite, che sono vizi o abitudini che si sono formati durante gli anni o altri non riescono a ottenere la guarigione e si chiedono perché, perché combatto ma non riesco a vedere risultati. Cosa devo fare? E questo messaggio che segue parla di questo. Lo abbiamo intitolato Prova, ci riuscirai. Filippesi 4, verso 13. Grazie Signore. Queste immagini di Gesù le hai messo sulla radio, no? No. Lo vuoi mettere sulla radio perché va con questo messaggio? Ok, sì. E lo vedrete quando riavvierete, riaprirete il programma radio. Allora, questo messaggio si chiama Prova, ci riuscirai. Filippesi 4, verso 13. Andiamo a Luca 13, Angelina. Luca 13? 16. E questa che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato? Luca, capitolo 13, verso 16. Allora, il dettaglio che voglio attrarre da vostra attenzione, amati fratelli preziosissimi, è che Gesù sta dicendo qui che questa donna era legata per 18 anni dal diavolo. E questa è una cosa che è bene capire a fondo, come il diavolo ci lega. In base al nostro amore per Gesù, il nostro servizio per Gesù, i legami possono essere più o meno grandi. Il migliore missionario cristiano e predicatore del mondo, che non sono io, sono io, sono tre più piccoli, è legato in qualcosa. Se lui, per esempio, perde pazienza con la moglie o con i figli, c'è un piccolo legame. Cioè, il diavolo è sempre lì a legarsi destra e sinistra. Solo Gesù che non aveva nessun legame. E però ci sono piccoli legami che ci consentono lo stesso di andare avanti. E ci sono legami che invece ci bloccano. Ci sono fratelli che schermo e dicono, non riesco mai andare a evangelizzare, non riesco a parlare di Gesù. E tu sei legato du, forte. Il diavolo, hai permesso il diavolo. Non è che il diavolo li ha legati, hanno permesso il diavolo di legarli. È il maligno che lega le persone. Le lega, i legamenti, attraverso diversi tipi, diversi modi. Cosa sono i legamenti, le corde, le legature? Cosa sono? Sono i vizi, le droghe, i peccati, cattive compagnie, pensieri negativi, mondani, abitudini infruttuose come computer, internet, pornografia, bevande, adulterie, lunga lista. Cosa sono i legami? Che tipo di corde usa il diavolo? Sono questi qua. Questi sono i legami. E quando non riesci a slegarti, devi pregare e digiunare, fratello, sorella. Prega e digiuna. Non vivere tutta la vita legato come una salsiccia. Hai visto mai i salamini con tutte le corde? Andiamo a Ebrei 4. Sì. Verso 12. La parola di Dio è? È vivente ed efficace, più affillata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4, verso 12. La parola di Dio divide l'anima dallo spirito. Come fai a dividere l'anima dallo spirito? La parola di Dio fa quello. La Bibbia chiama il nemico, e qui andiamo proverbi 6, lo chiama cacciatore e uccellatore. Capito cosa fa a cercare? Per cortesia, prestate attenzione. Non vi distraete lì a bere il cappuccino, a aprire e chiudere una finestra. Per favore, make attention. Attenzione. Proverbi 6, 4 e 5. Qui rivela... Gesù ci sta rivelando come il diavolo ci lega. Vogliamo prestare attenzione, per favore. Ah, io non sono legato. Caro mio. Leggi, Angelina. Proverbi? 6, 4 e 5. Non dar sonno ai tuoi occhi, né riposo alle tue palpebre. Liberati come il capriolo dalla mano del cacciatore, come l'uccello dalla mano dell'uccellatore. Proverbi capitolo 6, versi 4 e 5. Va bene, qui ho trovato un disegno del diavolo con le sue cordicelle che ha fatto di un altro una marionetta e quella marionetta con altri fili fa marionetta di un altro. E' così che funziona il regno del diavolo, i principati. Su ogni principato c'è un demone. Lo vediamo, lo dice Nefesini. Capitolo 6, verso 12, in avanti. Ci sono principati satanici. Non combattiamo contro carne e sangue, ma contro principati. Cioè Dio chiama la sua parola spada. La sola cosa che può tranciare di netto i legami del nemico. Ascoltate quello che dico. Dovete imparare, avete bisogno di imparare ad usare la spada della parola per tagliare quei legami che vi legano. Se fai fatica ad amare la famiglia, se fai fatica facciamo fatica ad essere umili, se facciamo fatica a evangelizzare, se leggiamo la parola e ci addormentiamo subito. E' un demone lì che cerca di metterci a dormire. Tagliamo quei legami. Si taglia solo, com'è? Si taglia con la parola. E come si fa? Si memorizza la parola, si legge la parola, si studia la parola, si cita la parola. E poi si vive in base alla parola. Hai tagliato i legami. Se solo la citi, se solo la canti in chiesa, ma non la pratichi, sì, hai la spada, ma non la stai usando. Hai la parola, ma non la sai usare. E' come dare un computer a un bebè, è come dare un'arma potentissima a un soldato che non ha voluto studiare, non sa usare quell'arma. I legami sono le invisibili bugie del nemico. Bugie che si possono vivere anche tutta una vita se non le distruggiamo con la parola. C'è gente che muore, speriamo di non essere noi, muore a 70 anni, a 80 anni e non ha mai tagliato quei legami. Ha vissuto una vita di tristezza, di egoismo, che i soldi non gli bastano mai. Ma c'hai due macchine, tre case, quattro terreni. Non è contenta. Tra i più frustrati al mondo sono i multinazionalisti. Adesso non c'hanno più neanche l'illusione che i soldi li faranno felici. Hanno provato dieci prostitute, ne hanno provato 50, Salomone ne ha provato mille. Salomone è morto frustrato. I legami sono, cosa sono i legami? Sono le invisibili bugie del nemico, sono invisibili. Bugie che si possono vivere, però, se non arriviamo a Gesù, se non le distruggiamo, queste bugie diventano parte di noi, diventano il nostro DNA. Mi ricordo la storia di, apparentemente una storia vera, di un passeggero di una nave che andava a cercare lavoro in America, all'inizio del Novecento. Mi pare che ve l'ho già raccontata. E si racconta che quest'uomo, a malapena, ha messo insieme i soldi del biglietto, però per risparmiare si era portato in una sacoccia formaggio e del pane, pane vecchio che metteva nell'acqua, ammorbidiva. E tutto il viaggio ha mangiato pane e formaggio. E tutto il viaggio, ogni tanto guardavo fuori dalla porta, dalla finestra, che c'era la sala del ristorante, dove tutti mangiavano, bevevano vino, mangiavano abbondanza, e c'era il buffet, che andavano a riempire il piatto la seconda volta, e lui con il suo formaggio in mano e il suo pane, pane vecchio. E finalmente cominciò ad arrivare verso l'America. Erano arrivati quasi a destinazione. E allora un cameriere del ristorante è andato da lui, e gli ha detto, signore, ma ho notato che lei non ha mai mangiato con noi. Come mai? C'è qualcosa che non va, non le piace il nostro cibo. E c'è, la verità è che non ho soldi per mangiare. Io non posso andare in quel ristorante lì. E il cameriere gli fa, ma signore, non lo sapeva che il cibo era compreso nel biglietto. Wow! Aveva il diritto di mangiare buon cibo? Fratelli, abbiamo il diritto di mangiare il cibo di Gesù, il buon cibo di Gesù. Quando riceviamo Gesù, fratelli, entriamo nella terra promessa, quella vera, quella di Gesù. Abbiamo diritto, leggimi, per cortesia, Luca 10, 19, quel verso che è nella lista della memorizzazione. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Luca 10, verso 19. Can you find the scripture All is yours, Paul, says all is yours in Christ. Ok. Dice Gesù ci ha dato il potere di calpestare il nemico. Calpestarlo. Lui dice non puoi, e noi lo facciamo. Lui dice non hai la fede, e noi lo facciamo. Lui dice no, e noi diciamo sì. Si tratta solo di provare, e provare, e provare, e provare. Fino alla morte, se necessario. Almeno morirò provando. Ma vedrai, vedrai. Se pulisci il tuo cuore, la tua mente, il tuo spirito, se cominci a amare il Signore con tutto il cuore, se ami le persone intorno a te col Vangelo, con tutto il cuore, vedrai. Se vai a evangelizzare, imponi le mani per la guarigione e nessuno guarisce, ma se continui, vedrai, vedrai. Prima o poi, vedrai miracoli. Ti hai trovato quella scrittura? No. Ah, dice in Primo Corinzi 3, 21, dice tutto vi appartiene, Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro, e voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Primo Corinzi 3, da 21 a 23. Bellissima scrittura, vero? Tutto vi appartiene. Primo Corinzi 3, gloria al Signore, dal 21? Sì. Grazie Gesù. Insomma, Gesù è venuto a morire in croce, fratelli, anche per darci il potere di sconfiggere il diavolo, anche per mandarlo al suo inferno, anche per scocciarlo. Ieri sera, ciao Deborah, sei arrivata? Deborah ieri sera a mezza della notte mi ha svegliato e dice, non riesco a dormire mi fanno male le gambe e abbiamo pregato e pregato, non è la prima notte, pregato e pregato, pregato e pregato, e ci è voluto qualche ora, poi io mi sono addormentato, dopo qualche ora il dolore è andato via, vero Deborah? Sì. Cos'ha fatto Deborah? Hai continuato e continuato a pregare? Continuate, fratelli. Non fatevi fermare dal diavolo, dimmi da. È come se ho detto, beh, sono qui a pregare il diavolo, non voglio continuare perché è rebutato, ora voglio solo credere e sto solo agire come se tutto sia bene. Io e te. Ho pensato, sono qua, sgridando di continuare il diavolo, non voglio continuare a sgridarlo perché è già sgridato, è già vinto, è già vinto. Mi comporterò come se ho già ottenuto la vittoria. Bellissimo. E così nel mezzo della notte e quindi è andata in cucina per preparare il cibo per il giorno dopo e si è comportata da sana, da guarita. E quando ha terminato, quando ha finito in cucina i piedi erano senza dolore e sono andata a dormire. Gloria a Dio. Perché è venuta da me che io stavo ancora lavorando qui erano due del mattino e lei mi ha detto non riesco a dormire per il dolore alle gambe. e lei mi ha detto guarda vengo su perché mi vedeva anche a fermare. Allora mi sono lavato i denti e tutto. Sono andato lì e mi sono piazzato in posizione di preghiera. Devi posizionarti bene perché sai il tuo corpo si stanca, crolli e allora devi mettiti comodo per pregare a lungo. E Dio benedica Deborah l'ena combattente e alla fine ecco il Signore l'ha premiata e benedetto. questa mattina Gesù mi ha mostrato te l'ho detto è una buona lezione per tutti di così è la storia della evangelizzazione che ti ho raccontato no? Che volte andavamo a evangelizzare diverse città e non avevamo quasi da dormire andare agli alberghi non ne parliamo neanche perché le offerte che si ricevono per la missione sono sempre mica troppe e allora alla sera si cerca un posto a dormire e a volte è capitato anche due o tre ore per cercare un posto per dormire a volte veloce a volte ci volevano e allora a volte cosa si faceva durante il giorno mentre si evangelizzava tenevamo gli occhi aperti per le pecorelle e quando trovavamo delle pecorelle pecorelle gli chiedevamo se avevano un posto da dormire però i soldi sono pochi qualche amico che ci possa aiutare e durante il giorno trovavamo un posto da dormire per la notte così quando finivamo di evangelizzare verso le otto di sera le sette le otto e allora avevamo già posto per andare a dormire si trattava solo di pregare per il cibo e dopo si andava a dormire insomma durante il giorno cominciavamo a pregare per un posto per dormire e allora gli ho detto ad Ebora durante la giornata prega per le tue gambe lo farò anch'io sgridiamo il diavolo tutto il giorno leghiamolo e così invece di pregare di notte alle quattro del mattino alle due alle tre alle quattro così abbiamo pregato durante il giorno alleluia God bless you Deborah I love you Amen allora dove ero io qua nei miei appunti che le cose invisibili le bugie del nemico sono invisibili come le sue cordicelle dicevo sì la soluzione e la risposta è di combattere senza stancarvi continuare come ha raccontato anche Maurizio la sua testimonianza che per mese ha dovuto combattere contro la carne ma alla fine ha ricevuto la risposta del Signore e ha capito che vale la pena resistere vale la pena insomma fratelli questo messaggio è un'esortazione a continuare a combattere ha detto Gesù Matteo 24 13 dice chi persevra sino alla fine sarà salvato non c'è momento che diciamo ho combattuto abbastanza adesso non combatto più è vinto il diavolo così non si può fare si muore come martiri muori come vuoi come ti pare ma non ci si ferma a combattere il diavolo ricordiamoci che Gesù una volta ha sgridato i discepoli perché non avevano fermato la tempesta lui dormiva sulla barca mezza piena d'acqua tempesta lui dormiva che Gesù dorme anche nella tempesta i piedi nell'acqua sulla barca a un certo punto la barca sta affondando non ce la fa più i discepoli vanno a Gesù Gesù dobbiamo svegliarti non ti moriamo periamo e Gesù si sveglia alza un dito ferma la tempesta nel nome suo e poi si rivolge ai discepoli conoscete la storia e dice dov'è la vostra fede non so se era più scocciato che l'avano svegliato o più scocciato che loro non mettevano la fede in pratica li ha sgridati perché non ha fermato la tempesta cosa vuol dire prega contro quella tempesta prega contro quel diavolo prega contro quella brutta abitudine prega contro quella droga quella pornografia prega 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 e il Signore ti risponde prima o poi continua a bussare alla porta del giudice malvagio e non ti non ti risponde e tu bussa ancora il giudice malvagio chi è il giudice malvagio il diavolo noi noi no perché non è il diavolo che dice adesso io gli faccio giustizia mica il diavolo siamo noi non è Dio perché Dio ha già mandato la risposta duemila anni fa dalla croce chi è il giudice malvagio siamo noi chi è noi la nostra mancanza di fede la nostra i nostri dubbi la pigrizia le nostre esitazioni la pigrizia allora fratelli armiamoci di pazienza amore e andiamo avanti Deborah come stanno le tue gambe they're ok thank you praise the Lord amen praise the Lord di più tu cammini sei una donna che cammina le tue gambe sono importanti nel nome di Gesù e questo è la chiamata del marito proteggere la moglie pregare per la moglie assisterla e a volte capi in mezzo della notte che Deborah si sveglia e allora gli ha detto senti facciamo un accordo quando ti svegli di notte prendi la mia mano e metti sulla tua testa e vedrai che ti senti meglio e così ci addormentiamo torniamo a dormire mentre dormiamo prego per te va bene io abbiamo diciamo degli accordi qui anche nel sonno è buono che con la moglie sei d'accordo e poi ci addormentiamo come due come due come si dice piccioncini gloria gloria a Dio allora prega contro qualunque corda che il diavolo ti ha legato può essere un brutto carattere irascibile in famiglia può essere come si sente lei o dagli microfono non si sente non si sente gloria sta confessando tutto io ho il brutto carattere e confesso e lo and I break it in Jesus name lo spezzo nel nome di Gesù io ho un brutto carattere ma chi più chi meno qui siamo tutti siamo tutti nello stesso sullo stesso barcone forse dovrei dire sulla stessa zattera in aspetti diversi tutti lo abbiamo non uguali però tutti lo abbiamo ognuno ha il suo punto debole quello irascibile quell'altro è solamente scibile ognuno ha la sua io non ho pazienza con nessuno non ho pazienza neanche con me stessa no non ho pazienza voglio tutto subito adesso Angela ti mandiamo in vacanza in Italia perché così almeno i fratelli ti testimoni evangelizzano un po' e quando torni qua sei tutta tranquilla ah si credi che funzionerà fratelli vi serve un esperto a radio guarda se funziona vado anche perché voglio vederli non mi dispiace prendi la nave o l'aereo lì si ma non è ma non è che ma non è che noi la mandiamo facilmente vero fratelli povero fratello Giuseppe posso tornare all'aratro qua si si vai allora le corde del diavolo quali sono posso essere in gratitudine verso quello che i familiari fanno per noi e che il maligno fa diventare un legame che ci incatena voi non mi capite non mi capite non avete capito la mia psicologia non avete guarda non l'ha capito neanche Dio guarda sarà meglio che l'abbandoni bene magari la cordicella del diavolo può essere quella che ti lega quell'abitudine di prendere dagli altri ma di non dare il nemico ci ha legati al suo egoismo i nostri amici del mondo quei quali pensiamo solo a bere e divertirsi sono una rete che ci fa diventare schiavi del divertimento disse Dio al profeta Ezechiele che avrebbe distrutto Gerusalemme perché? perché questa Ezechiele 16 questa Gerusalemme si era dimenticata di lui e Gerusalemme fu punita con 70 anni di schiavitù in Babilonia vedere tutto il libro di Ezechiele nella Bibbia però Dio poi ha spiegato al profeta il motivo per cui i giudei erano accaduti nel peccato il motivo per cui oggi il mondo è nel peccato il motivo che noi possiamo cadere la fossa dove il diavolo cerca di spingerci allora prestiamo attenzione Ezechiele 16 49 Angelina mi aiuti? Sì Ecco questa fu l'iniquità di Sodoma tua sorella lei e le sue figlie vivevano nell'orgoglio nell'abbondanza del pane e nell'ozio indolente ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero Ezechiele 16 verso 49 allora attenzione perché Dio ha distrutto Sodoma? Abbondanza di pane vivevano nell'orgoglio nell'ozio indolente non sostenevano l'afflitto il povero per questo fu distrutta Sodoma abbondanza di pane cosa vuol dire? Abbondanza di schiavi dipendenti gente che lavora per i ricchi che fotografia del mondo e delle famiglie senza Dio di oggi che fotografia delle famiglie dove genitori violenti contro i figli figli che si sentono degli dei i genitori mi devono solo mantenere io scuola diploma e poi che i genitori vadano all'inferno io vado per conto mio il piano di Dio non è quello il piano di Dio era Abramo con la sua famiglia la sua piccola tribù un po' più o meno come siamo noi qua nella nostra comunità è così che operiamo sia come una famigliotta e il Signore evidentemente la benedetta la nostra famigliotta perché ci ha dato un megafono la radio che si sta spargendo in tutto il mondo siamo più di 60 nazioni quindi il Signore evidentemente ha voluto che ci spargessimo perché è Lui è la Sua Parola è il Suo Spirito Santo io sono solo un piccolino missionarietto dal Vangelo piccolo piccolo per me quando l'afflitto non viene sostenuto non sostenere l'afflitto e il povero vuol dire innanzitutto non sostenerlo nello Spirito parla da missionario dicevo nel Vangelo non sostenere l'afflitto e il povero Dio sta dicendo che nel nostro caso che siamo missionari del Vangelo non lo stiamo sostenendo nello Spirito cosa vuol dire il povero spirituale non ha di che nutrirsi in riferimento della parola di Dio sostenere il povero non è solo dare cibo e da mangiare Gesù non lo ha fatto solo due volte ha dato un pezzo di pane a un pesce due volte tre anni e mezzo quindi si può dire e poi hanno dovuto aspettare tre giorni quasi morivano di fame e loro tutte queste religioni il pacciamama che sempre parlare lo stato politico i poveri che soffrono o i poveri di qui i poveri di là i poveri dello Spirito Gesù è venuto a raggiungere e il cibo viene automaticamente quando una nazione diventa cristiana una regione una famiglia una chiesa diventano cristiane e si aiutano anche materialmente quello lì neanche parlarne ma se non soddisfacciamo se non sfamiamo la prima fame e la prima sete che è nello Spirito cioè con la parola di Dio e noi gli puoi dare tutto il cibo che vuoi torneranno ad essere poveri perché manca il fondamento di Cristo in Africa che c'era un periodo decine e decine di anni fa che era famoso per arrivare le navi americane anche qualcosa dell'Europa cibo 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 la gente l'ha smassita di lavorare come reddito di cittadinanza lo stato mi dà queste brici non faccio più niente buonanotte sarò povero almeno non lavoro davano queste navi piene di frumento all'Africa però non davano Gesù e allora quando hanno smesso di mandare le navi col cibo l'Africa è sprofondata nella povertà per questo Ezechiele capitolo 34 è una terribile accusa incriminazione contro chi di noi credenti non si dà cura di nutrire le pecorelle perdute che ancora non conoscono il pastore Gesù pecore che ancora non conoscono la via all'ovile che sta tutta nella conoscenza della parola di Gesù la via per l'ovile è la parola Osea Angelina Osea 4 e dopo che Dio gli disse andare a sposare una prostituta perché il popolo si prostituisce sposati una prostituta Dio gli disse 4 6 il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza Osea capitolo 4 verso 6 perché perisce mancanza di conoscenza quindi non è sufficiente predicare nello spirito e un pochino conoscere anche le notizie sui giornali e sapere dove sta andando questa barca che affonda del mondo così che sappiamo dove andare e dove non andare magari cambiare anche nazione la mancanza di conoscenza che sto parlando è quello che Gesù ha detto che il diavolo lega la gente con i suoi mali anche per anni quella donna prima 18 anni legata dal diavolo non è difficile vedere credenti cristiani che sono legati e che muoiono anche a 70 anni a 80 a 90 legati come salami la cosa lo vedi perché non seguono Gesù non lavorano per il Signore non operano non costruiscono niente per il Signore tranne come delle mummie sedute su delle panche a dormire la domenica mattina pensando che questi li faccia diventare credenti non è così da loro frutti li riconoscerete allora il punto è com'è che ci sleghiamo guarda ho trovato questo bellissimo cartoon c'è una vignetta Angelina lo mettiamo sulla radio anche questa è in inglese è in inglese si ma la traduco io ok ma la metti sulla radio ok ecco qui c'è una scala una scala con tanti gradini ogni gradino c'è uno c'è una persona una vignetta allora dice which step have you reached today che passo a che passo sei su che scalino sei oggi allora alla base c'è uno seduto che dice io non faccio niente al secondo gradino c'è un altro che dice ma io non posso farlo non sono in grado poi il prossimo gradino ci dico vorrei vorrei farlo l'altro gradino sopra dice si ma com'è che lo facciamo altro gradino io voglio provare di farcela altro gradino un altro che dice io posso farcela l'ultimo gradino dice lo farò e poi sopra la superficie c'è uno che salta in aria lodando al signore ce l'ho fatta lodando al signore lo dico io l'ha messo sulla nonna si è pubblicata se riaprite la prima pagina radio la vedete quando rinfrescherete la pagina la vedrete insomma il punto è com'è che ci sleghiamo ok ho capito il diavolo c'è molti di noi legati la maggioranza delle chiese 99% sono legate imbalsamate lo vedi dal fatto che non non hanno la libertà di evangelizzare sono legati come salami e lo dico con amore è stato legato anch'io fin quando Gesù mi ha mostrato come tagliare le cose le corde tutti ci siamo passati quindi nessuna offesa guarda nel caso della donna che Gesù parlava di 18 anni legata cos'è che fece Gesù per slegarla vai lì Angela Luca 13 c'è quella donna legata di 18 anni Luca 13 ecco 12 e 13 cos'è che fa Gesù stanno parlando di slegarsi tagliare i legami ok frate Giuseppe come si fa ma lo dice praticamente terra terra avanti Gesù vedutala la chiamò a sé e le disse donna tu sei liberata dalla tua infermità pose le mani su di lei e nello stesso momento ella fura adrizzata e glorificava Dio Luca capitolo 13 versi 12 e 13 capito allora Gesù semplicemente comandò eh ma io non sono capace eh sì lo so non posso farlo non si può fare mi dicono che non si può io proverò ce l'ho fatta quindi dobbiamo semplicemente imparare a comandare comandare il diavolo di andarsene con i suoi bagagli i suoi i suoi bauli le sue valigie il suo pacco di immondizia di andarsene con i suoi inganni satanici con le sue malattie e le sue maledizioni comandargli e non mi ascolta arrabbiati contro il diavolo vattene satana adesso questa mia moglie gli fanno male i piedi nel nome di Gesù Cristo io la guarisco ho il potere e abbiamo continuato e continuato e continuato è guarita è guarita senza andare a chiamare l'ambulanza qui c'è mia moglie che non riesce a dormire ah tranquillo quattro iniezioni andiamo a pronto soccorso poi gli faranno tutte le siringate del diavolo che vogliono e invece no dobbiamo lottare combattere con la spada in mano e la testa del diavolo patapum patapum allora in Marco 16 vediamo che Gesù ha insegnato ai discepoli cosa fare come fare cosa dire dei versetti 17 e 18 grazie legge uno straccio questi segni questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome scacceranno i demoni quindi scacceranno i demoni andiamo alla fine imporranno imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno ecco rileggelo di nuovo così questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome scacceranno i demoni imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno Marco capitolo 16 versi 17 e 18 ecco allora Gesù non ha detto controllate se avete la fede assicuratevi che avete fatto siete nella baracca nell'edificio religioso corretto e assicurati no ha detto niente questi segni vi accompagneranno se hai creduto ah se c'è un grande dono no se hai creduto ah se sono un apostolo no se hai creduto ah ho capito se ho il diploma in teologia no non hai capito devi solo credere ah devo essere cattolico o protestante no devi solo credere ma insomma quant'è che devi gridare Gesù io non so se grida ma grido io comunque e allora i discepoli ubbidirono e i demoni e le loro malattie venivano cacciati e se a volte non ci riesci vai avanti però non sempre gli apostoli riuscivano anche gli apostoli fallivano a volte in Matteo 17 vediamo che gli apostoli non riescono a cacciare un diavolo o meglio pensano di non poter di non poter farlo quindi se a volte non ci riesci non ti preoccupare accade nelle migliori famiglie gli apostoli non ce l'hanno fatta Angela qui c'è un'altra vignetta che ho trovata si che fa me la mandi lì metti anche questo sulla radio ok ci sono due che scavano li scrivi tu li scrivo io no è una persona che scavano però no sono due persone ah sono due diverse no descrive la tua allora ecco allora ci sono due che scavano e stanno cercando cos'è che dice il titolo you never know how close you are so never give up on your dreams allora stanno cercando diamanti e stanno scavando una miniera cercando diamanti e dice non sai mai quanto vicino sei così non rinunciare mai ai tuoi sogni allora c'è uno che scava 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 sta avvicinando lì poi c'è un altro che ha scavato tantissimo a un certo punto si è stancato ha preso piccone sulle spalle e se ne ritorna indietro dopo pochi centimetri c'erano i diamanti questo lo vediamo nella vignetta e allora il titolo della vignetta l'artista l'ha messo lui dice non sai mai quanto vicino sei ai tuoi sogni e allora non rinunciare mai ai tuoi sogni nel nostro caso i diamanti è Gesù i diamanti è il regno di Dio la volontà di Dio vai avanti fratello continua a scavare nella parola studiare la parola leggerla capirla memorizzarla predicarla usarla contro il diavolo avanti e avanti vedrai non ti abbandonerà che Gesù ti risponderà vedrai che Gesù non ti deluderà e allora i discepoli dovessero imparare e anche noi possiamo imparare a farlo l'importante è che non ci adagiamo in qualche religione dormi dormi e che ci studiamo ad imparare provando e riprovando hai sentito parlare di Edison Angela? si Edison l'uomo che scoprì la lampadina elettrica e lui quando è che l'ha scoperta? dopo più di mille tentativi falliti Edison provò mille volte dicono più di mille volte e mille fallimenti quindi se hai difficoltà oh chiedo scusa aspetta qui c'è una contraddizione John dice due mila volte che ci ha provato chi offre di più Paul? tre mila? no no la storia cosa dice la storia? due mila volte ecco qui vedi la mia stessa famiglia mi contraddice cosa devo lamentarmi di internet sto scherzando grazie John quindi correzione due mila volte e allora chi siamo noi per pregare delle persone che non guariscono ci scoraggiamo e torniamo nella nostra pozzanghera a lamentarci Dio non mi risponde la gente non guarisce e continua no? eh scusa vai a fare il tirassegno invece di colpire il tiro colpisci l'aria invece di colpire il segno e allora fratelli continuate vuoi imparare a fare guarigioni imponi le mani e dire incontri le persone delle strade che hanno malattie e dici permetti che prego per te che Gesù ti guarisce tutti ti diranno sì ci sono mezze pecore preghi nel nome di Gesù cacci i demoni dici sei guarito nel nome di Gesù e poi gli dici credi non dubitare vedrai la guarigione io preferisco pregare per le persone che hanno dolori preferisco c'è dolore no è peccato io preferisco pregare per le persone che hanno dolore non hai dolore oh che pietà sto quasi scherzando diciamo però preferisco uno ammalato che ha dolori che uno ammalato che non ha dolori perché così mi deve telefonare per dimmi sei guarito sai che John Wesley pensava che ogni uomo di Dio deve avere persecuzioni e per un periodo lui non ha avuto persecuzione e pregava signore puoi mandarmi un po' di persecuzione come mai non ho persecuzione e poi all of a sudden questo ragazzo si stava e dice hey sei un uomo del Dio non sei di Dio e ad un tratto qualcuno ha iniziato a sgridare tu sei un uomo del diavolo ma la storia che conosco io è che mentre lo malediva gli tirava anche le pietre e John Wesley ha detto grazie Gesù grazie siamo tornati alla situazione normale diceva che due settimane che nessuno lo malediva lo perseguitava si preoccupava signore c'è qualcosa che non va con me perché Gesù ha detto guai a voi quando gli uomini vi parlano di bene quindi lui pensava ups non sono più nello spirito di Dio e la storia racconta che c'era un uomo che passaggiava stava camminando vicino a un fiume un uomo dell'altra parte del fiume siccome non poteva raggiungere gli tirava le piene avanti fratelli avanti allora non arrendetevi insistiamo persistiamo e il nemico dovrà perché dovrà andare via perché è la legge di Dio se abbiamo fede e combattiamo nel nome di Gesù vinceremo caro fratello andiamo a Filippesi 4.13 Angeluzza caro fratellino prova e prova e vedrai scamperai dall'accio del maligno che ti dice non puoi vattene satana io posso ogni cosa in colui che mi fortifica Angela leggi Filippesi 4.13 4.13 io posso ogni cosa in colui che mi fortifica Filippesi capitolo 4.13 grazie Angela che mi confermi ecco ecco allora concludiamo con Salmo 124 perché è l'ora di concludere Angelina ce l'hai quello? si ce l'ho 6 all'8 Salmo 124 vai Angela puoi andare senza paura benedetto sia il Signore che non ci ha abbandonati in preda ai loro denti l'anima nostra è scampata come un uccello dal laccio dei cacciatori il laccio è stato spezzato e noi siamo scampati il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto i cieli e la terra Salmi 124 versi 6 a 8 capito? stiamo parlando dei lacci del diavolo e il laccio è stato spezzato e noi siamo scampati perché? perché Gesù ci ama perché il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto il cielo e la terra perché è il nemico sotto i nostri piedi e noi insistiamo e insisteremo nel pregare per le guarigioni per le liberazioni andare a predicare andare a evangelizzare che il diavolo piaccia o no qualunque cosa che ti senti nella mente contro la testimonianza e l'evangelizzazione è sempre il diavolo sempre alleluia e se sei circondato di persone che ti ostacolano va a evangelizzare quando non lo sanno una cosa privata personale davanti a Gesù Cristo alleluia grazie Angela alleluia ti amo mi fermo? si va bene si si fermati così però va davanti nello spirito si e nello spirito insistiamo e persistiamo fino alla vittoria vai Angela che siamo con te mettiamo un canto e poi andiamo alle richieste di preghiera fratelli cantate questo canto andiamo ascoltiamo passa altrove il gruppo Hebron Hebron perché gridi così forte gridi non ti abbia sentito ho ascoltato il tuo grido e sono venuto in tuo aiuto adesso togli le pende dai tuoi occhi e guarda il miracolo che di fronte a te e vedi il mare aperto va a saltrove e insieme senti questo vento lo mando Per guidare te Perché gridi così forte Credi non ti abbia sentito Ho ascoltato il tuo grido E sono venuto in tuo aiuto Adesso togli le vende Dal tuoi occhi e guarda Il miracolo Che è di fronte a te Vedi il mare aperto Passaltro te Passaltro te Dio tiene me Sentir questo vento Per guidare te Per guidare te Per guidare te Grazie a tutti.